Ultimi due minuti di gioco tra Gina Lovers e Dinamo Zanardi, avanti Gina Lovers per 6 a 5 la rete realizzata proprio pochi secondi fa da Roberto Sommella. Si perde un po' di tempo qui, con Inna che si becca con qualche avversario, l'arbitro Prodomo ha qualche problema a mantenere calmi gli animi. Porfido può rimettere in gioco questo pallone, gioca all'indietro il pallone. Calcio direttamente verso la rete, nessun problema per Mitopi, che va al rinvio. Buono qua il numero, gioco pericoloso, calcio di punizione per Dinamo Zanardi. Calcio di punizione è battuto rapidamente, la palla che però è alta, sopra la traversa. Non lo fa male. A te. Ma neanche a buttarla. Mitopi. Eccoci qui, con francesco a 3 kg. Sione, ruba palla, tiro, la palla che esce. Di un soffio. Forza mio pops. Lungo rinvio di Mitopi, attenzione, la deviazione. Dico Inna che non ci arriva. Gina. Vediamo il rinvio. Hai capito Gina. Ultimo minuto. Chi è Gina? Hanno fatto una volta di Gina Loverz. Ci piace la gira. Palla lunga. Gina Loverz. Vabbè. Gina. Vai Gina. Qua un rimpallo su De Martino, c'è forse un fallo, è così. Calcio di punizione per la Dinamo Zanardi. Fasi concitate del match. Eccoci qui, con francesco a 3 kg. Soprannominato testa. Qui va via. Arrabbiatissimo, Mitopi. Mitopi va via. Mitopi va via. Arrabbiatissimo con i suoi compagni. Posso tirare io? C'è l'uomo, l'uomo. Calcio di punizione. Il tacco di Porfido. È la rete di Simone Porfido. All'ultimo secondo. Il pareggio. Quando il portiere Mitopi di Gialli non c'era più. Come si è sbagliato quelli nazionali. Comprensione tra i ragazzi dei Gina Lovers. 6 a 6 dunque firmato praticamente all'ultimo secondo. Stanno 6 a 6. Vediamo adesso De Martino che calcio direttamente in porta. Rimpallato. Lungo in avanti, attenzione, non c'è nessuno in porta. Finisce qui. 6 pari. Tra Gina Lovers e Dinamo Zanardi. Vediamo qui il nostro collegamento. Ma che piscione quel portiere Sera. E ballo il milione in campo. Si può accompagnare come al solito dalla combriccola della Zanardi. Una vittoria, una partita forse un po' troppo sofferta contro i Gina Lovers. C'è anche l'intruso prea. Trova l'intruso. Forse era più facile la vigilia. Però la partita è un po' più difficile. Vincevamo 4 a 4. Vincevamo 4 a 0. Abbiamo fatto 4 a 4. E' uscito il difensore. Sì, è il difensore. Non l'avete opinionato. Da permettere che Cardoni ha un cappottone assicurato. Assicurato. Cardoni lo facciamo proprio i Cardoni. Rampiso, Antonio, Antonio. Antonio, 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 Antonio. Parla la calma. Attenzione a te. Luca, parla tu della squadra resale. Forza Santerra. Vabbè, Maglio, partita facile comunque. Sì, sì. Dai. Vabbè, vanno male. Vinciamo 4 a 0. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè.